Parte dalla villa di Morciola dell'imprenditore Otello Battistelli la prima spedizione della nazionale di basket sorde ai mondiali 3x3. Prima anche perché è la prima volta che la federazione istituisce questa manifestazione per non udenti. La nazionale basket sorde sarà a Tel Aviv in Israele dal 7 al 10 settembre e lo farà con sponsor sulla maglia il brand pesarese di compressori che ha deciso di sostenere la causa azzurra. Mi era stato proposto anche qualche anno fa, dopo io ero impegnato diversamente e adesso l'abbiamo ripreso quest'inverno, mi sembra quest'inverno. Ho dato il contributo perché giustamente è una roba, siccome lo Stato non pensa a niente, dobbiamo pensare a noi imprenditori in pratica. Io sarei andato a volentieri in Israele a settembre, però sono in Sud America quel periodo allora per lavoro e se no sarei andato a volentieri. Nella villa di Battistelli presente lo staff azzurro che si prepara alla nuova sfida. La scelta delle atlete quest'anno è stata molto complicata perché il livello della squadra è cresciuto molto e noi cercheremo sicuramente di fare il meglio e cercheremo di rendere la vita difficile a tutte le squadre, come abbiamo sempre fatto. Sicuramente io ho la fortuna di seguire questa nazionale da dieci anni e all'inizio abbiamo avuto dei momenti un po' difficili perché era una nuova realtà, era anche difficile riuscire a reperire fondi, finanziamenti, sponsor che ci permettessero di fare raduni, ma devo dire che poi siamo riusciti a creare un bel gruppo di lavoro e credo che non ci siano sacrifici che possano essere paragonati alla soddisfazione che ho avuto allenandole. Ed ora, dopo i successi agli europei e l'argento olimpico, arriva l'inedito mondiale 3x3. È la prima volta che facciamo i mondiali perché è la prima volta nella storia dei soldi che viene fatto il 3x3. Quindi non sappiamo le squadre che andremo a incontrare, magari qualche nazionale già la conosciamo, però non sappiamo le persone selezionate. L'obiettivo è sempre quello di puntare il più alto possibile. Siamo insomma da tanti anni, io sono appunto la più storica perché sono nella nazionale da quando è cominciata la storia, da 2011 fino ad ora. Ad essere nominata pure per il 3x3 è una mozione indescrivibile perché è sempre un orgoglio indossare la maglia blu. Come ha detto anche il capitano, il 3x3 è tutto un altro sport, però cercheremo sempre di dare il massimo e vedremo anche partita dopo partita, come sempre, cercheremo di migliorare il nostro gioco.